Attraverso quella che noi definiamo nelle discipline analogiche chiave d'accesso, proprio definita così, diciamo anche come dice lo stesso termine, una chiave che permette di accedere appunto al suo inconscio, di comunicare con lui. Quindi ecco io invito in questo caso Angelo ad apprendere questa sua chiave d'accesso e quindi da fare poi il simbolo asta appunto col dito e a questo punto provare appunto a girare sul cerchio, esatto, vediamo, o addirittura infila l'asta nel cerchio. Vediamo infatti la reazione, vediamo se infilando l'asta nel cerchio ecco il suo inconscio, vedete, dà una spinta in avanti.